La Madonnina risale sicuramente ai primi del Quattrocento. È sempre appartenuto alla famiglia Bettazzi. La dipinse Lorenzo Favda Magnavalli, detto canapone piccino, nel suo momento mistico, il suo momento migliore. Si vede il suo momento migliore, vabbè Puppe, gli ha fatto. Eugênio Bettazzi è il rappresentante della sua famiglia, nonché nipote della signora Adalberta, alla quale vostro padre vinse la Madonnina al gioco, a Prigio mi sembra. No, no, non vi nego, a scala 40. Mia nonna Adalberta è stata una grande giocatrice. Purtroppo non vi nego, non molto dotata, soprattutto nei giochi dove sono richieste qualità mnemoniche di un certo livello, non vi nego. È intenzione della famiglia, come sapete, di riacquistare immediatamente l'opera? Sì, perché il distacco in questi anni della nostra famiglia, non vi nego, dalla Madonnina grassa è stato duro, se non addirittura angosciante. Non vi nego che il signor Notaio conosce benissimo la nostra storia. La cara nonna Adalberta, seppur donna qualitativamente irreprensibile, viveva però con i nipoti, forse quel gap generazionale che... Un Madonnino. Si è fatto male. Non tu vai, ma che sei l'unico. Scusate, ho fatto una testa. E per forza, dondola, dondola, si è a scala. Scusate, continuate, continuate. Si è fatto male. Fuo alla chiorba. Ma che rischia. Allora, il distacco della Madonnina della famiglia Bettazzi sta ormai per finire. Mi è stato richiesto, non vi nego, senza la mia approvazione, di farvi avere il corrispettivo in contanti, che è appunto qui. Non vi nego il disagio che ho vissuto, eh, trasportando questa valigetta piena di banconote, anche se non vi nego, per la mia famiglia, oggi è una giornata da ricordare. Scusi, ma sono 250 pippi? Suppongo che in Toscano pippi siano milioni. Esatto, pippi sono milioni, sono. Bene, la lettura del testamento è stata fatta, tutte le documentazioni sono pronte, non ci resta che firmare l'atto di vendita. E allora firmiamo. La vedo particolarmente entusiasta. Eh sì, sono entusiasta, perché nella mia vita non vi nego che mi è andato quasi tutto male, invece questa bella Madonnina, sono un po' di soldini, a parte il viaggio per venire qui, mi ha fatto passare di tutti i colori, poi per il resto tutto bene. E la scomparsa di suo padre? Certo. Scomparsa, povero pappo. Non vi nego, qui ci sono i soldi che vi ho portato. Eh bravo non vi nego, apri la valigetta. Eh no, le mani addosso non vi nego, no. No, ma è un modo nostro toscano, una male. Sì, si dice così, si dice un bel caso. Che fa, firmo? Sì, firmo. Ma come è firmo, Gimondi o Melchiorre? Gimondi, Melchiorre, che è Gimondi? Gimondi ha soprannome suo che c'ha da tanto tempo. Eccolo qua. Ale, questa è la migliore. Tutto fatto. Tutto a posto. Ma la Madonnina è qua. Arrivederci, buone cose. Grazie. Eh, non ci incrociamo, vai. Non ci incrociamo. Buone cose. Grazie. 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 Grazie.